Sono iniziate le fasi finali per la realizzazione del grande impianto natatorio finanziato dalla Fondazione Carifano nei pressi dell'aeroporto. Ormai siamo giunti al collaudo delle strutture. Lo Stato di fatto è stato presentato agli organi di informazione dal Presidente Giorgio Gragnola e dal Sindaco di Fano Massimo Seri, che il 30 giugno scorso ha pubblicato il bando per la gestione. Una gestione valevole per 15 anni, fondata su un project financing relativo a tutte le migliorie che possono essere introdotte nell'impianto e alla convenienza per l'utenza del costo del servizio. La scadenza è stata fissata al 20 luglio prossimo. L'inaugurazione di tutto l'impianto è prevista per i mesi di settembre e ottobre. Entrando sul centro natatorio, Seri ha ricordato come questo sia il più bello della regione, con tre piscine, una a otto corsie, una per la fascia 0-3 anni, una per l'acqua gym e alla riabilitazione. Altamente tecnologici sono gli impianti di depurazione delle acque, di riscaldamento e di tutto ciò che fornisce energia alle strutture. È una grande vasca realizzata da Mirta Purs, che è una dei marchi più blasonati che vediamo spesso quando guardiamo le gare olimpiche e le gare internazionali, perché sono le tecnologie di massimo livello che abbiamo oggi sul panorama internazionale. Quindi siamo orgogliosi anche di avere questo fornitore tra quelli che hanno realizzato questo centro. Questo è un reparto del tutto indipendente dell'impianto natatorio, perché è un reparto di carattere sanitario. Penso che il gestore possa gestire in modo assolutamente importante anche questa sezione, questa divisione del centro natatorio, perché è una parte che ha la sua autonomia e che ha le autorizzazioni di tipo sanitario per poter svolgere all'interno del centro natatorio anche una funzione di riabilitazione. E questa piscina è una delle quattro presenti in questo centro proprio dedicata a questo tipo di attività. Qui siamo nel cuore dell'impianto natatorio, un impianto dell'alimentazione, un pianto dell'efficientamento energetico di grande tecnologia. Sono certamente tecnologie all'avanguardia e qui siamo appunto nel sotterraneo del centro natatorio e facendo un giro qua dentro ci si rende conto veramente della complessità di questo centro e anche della necessità appunto di un gestore capace di ottimizzare bene tutte le tecnologie che sono state impiantate.